e allora noi prendiamo alfa e cerchiamo e dobbiamo del bravo il più tempo possibile ma ti faccio vedere fin dove sono i giri per gli spavani ti faccio vedere come sono i percorsi è uguale basta che si fa scaracca e 52 le solide armi io ho sbagliato a mettere le 23 secondo me troppo poche vabbè ora proviamo allora questi sono entrati allora noi conquistiamo la prima bandiera mettiti il defibrillatore così capiscono che non devono sparare sperando ma sono regole queste sono regole queste eh certo ci sono le regole vai 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 vi devo allora noi possiamo entrare sia da qui che da lì normalmente però ci dobbiamo fermare fino a qui non possiamo andare oltre ah vabbè aspetta vedi i punti di dino oh ma che fauna è si vabbè dai no 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 c'è tanta pia e a mister 30 è forte di là e santa una volta Sì. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.